Buon pomeriggio ragazze, video da Zara, questa volta una panoramica come mi avete richiesto, anzi fatemi sapere se vi piace questo genere di video perché alternerò senza altro tra capi indossati e panoramiche sulle nuove collezioni in modo da arricchire un po' di più il canale proprio su video e brand che vi piacciono di più. Entro da Zara e vado subito a vedere gli accessori anche perché in previsione di un video sui saldi anche ho sbirciacchiato già le percentuali nelle altre nazioni dove i saldi sono già attivi quindi mi sono già fatta un'idea poi ne parleremo. Camice, guardo sempre le camice soprattutto in pizzo sangallo, questa mi piaceva moltissimo, anche un po' over da mettere a settembre anche perché lo ripeto io con i saldi tendo ad acquistare qualcosa non solo della stagione ma soprattutto sbirciacchi un pochino per la stagione che verrà ovviamente capi basici perché mi faccio già un'idea dei colori di tendenza. Quest'estate sicuramente avrete notato il tripudio dei rossi, cioè il rosso è stato molto molto presente come colore nelle collezioni sia di Mango che di Zara e via dicendo ma se va in saldo perché devo ancora controllare questa giacca con la manica corta potrebbe essere un'idea, mi piacerebbe mettere una camicia che poi fuori esce insomma anche il pizzo sangallo sarebbe un'idea. Comunque mi aggiro tra gli stand per dare un'occhiata, farmi un'idea, modelli tessuti, la vestibilità anche senza provarli comunque ognuno di noi conosce il proprio fisico e può rendersi conto. Mi sono molto soffermata sulle calzature, sugli accessori, piccole borse anche perché ultimamente sto utilizzando tantissimissimo una borsa in cuoio che ho preso appunto da, finto cuoio, che ho preso da Zara. Anche quest'abito mi era piaciuto e controllerò se è in saldo, sapete che adoro le fantasie può, così come per quanto riguarda l'amore che ho per i body, proprio la passione per i body. Io ho già visto che il body che indosso di solito è quello in rosa, che secondo me vale la pena prenderne un altro visto che andrà in saldo. Quindi sicuramente preparerò il carrello perché di solito il giorno prima ci sono già comunque le percentuali, cioè ci fa già vedere Zara quale sarà la situazione per quanto riguarda i saldi. Quindi preparate i carrelli, ma ne parleremo nel prossimo video che cerco ovviamente di sviluppare e creare prima dei saldi veri e propri, che ovviamente con l'app si avranno in anticipo sui negozi fisici veri e propri. Comunque body, body come se non ci fossero domani, perché abbiamo tantissimo poi i body questi classici, molto basici, perché li utilizzo un po' tutto l'anno, anche sotto i maglioni, per me sono molto comodi o come sotto giacche. Belle comunque le camicie anche a righe, da mettere anche in questo periodo, magari anche come copricostume, perché no? E poi ho notato una cosa ragazze, molti abiti freschi mi avete chiesto, tutto, adesso li mostrerò, sto facendo vedere un po' tutto anche con i prezzi, ciabattine e tutto, ma ho notato il ritorno di quest'animalie maculato, che a me sinceramente non fa impazzire. Non amo tantissimo il maculato, non mi piace proprio l'animalie in generale, forse un pochino il pitonato, però non lo amo. Infatti tra un po' vi faccio vedere che c'è, non l'angolo, proprio spargimento di sangue per quanto riguarda l'animalie, non mi fa impazzire. Tute, vedete, mostro anche i prezzi, mi avete chiesto di vedere se è da zara. Ce n'era una bellissima all'ingresso, che ho fatto forse vedere subito, che è quella verde militare, molto molto bella. E anche tantissime borse così, tracolla, accessori, in rafia, con i dettagli color cuoio, che per me anche per fare la valigia, molto minimal, comunque si abbina a tutto. E di solito faccio una valigia a capsula, come la chiamo io, perché tutto si deve abbinare con tutto, in modo da essere vestita sempre in maniera diversa, ma comunque accessori che si riescano a sposare con tutti gli outfit che mi porto dietro in vacanza. Questo sempre, anche nei weekend. Comunque, mi sono diretta poi, se non erro, proprio verso l'animalie per farvi vedere. C'erano abiti, camicie, giacche. Non so, io veramente adesso, non per dire, ma questa fantasia la trovo un pelo invernale. O quantomeno autunno-inverno, non riesco a, perlomeno per un mio gusto personale, vedete anche gli abiti con la schiena scoperta, le ciabattine in tinta, in abbinato. Io non riesco a vederla come una fantasia estiva o, mamma mia, neanche primaverile, ma neanche estiva. Non mi fa impazzire. A parte, vabbè, non mi piace in generale. L'ho ripetuto quante volte nei miei video, non lo so. E anche qui, mi sono soffermata molto sugli accessori, vedete anche qui, sempre animalie, con la ciabattina in tinta perché è amante. Tra l'altro, vedo che sta molto bene alle donne un po' più nordiche, dai colori chiari, bionde, forse perché non appesantisce. Poi ci sono more e more, per carità, però sul capello nero vedo che va molto ad aggravare la situazione. Non lo so, appesantisce il tutto. L'outfit appesantisce proprio l'abito maculato, appesantisce proprio il look. L'outfit non mi piace. Vabbè, si è capito benissimo, Emanuela, che non ti interessa. Comunque, ho visto tantissimi sandali belli, anche in argento, in oro, ciabattine, proprio per stare comode, leggere. Anche perché col caldo, portare i tacchi. Diciamo che ad agosto comincio anch'io ad abbandonare un pochino il tacco troppo alto. Ma è proprio perché comunque là fa il caldo stancano molto, quindi metterci pure una borsa pesante e grande, dei tacchi alti, si fa fatica. Per riprenderli poi come jeans tra settembre, fine settembre ed ottobre. Mi ero innamorata poi sul sito di questa borsa fatta in oro, sembra rafia, non so. Però l'ho trovata al tatto, alquanto ruvida, quindi l'ho lasciata lì. C'era quest'abito che ho visto che impazzava molto negli scatti su Instagram. Ho visto molti scatti, però sinceramente non l'ho provato perché l'ho trovato un po' ingasinato nello stand e non mi andava di star lì a perdere tempo a cercare la taglia. Belli questi abiti, lunghi, freschi. Io tendo molto a portare abiti di questo tipo, anche colorati in estate. Soprattutto la sera, un abitino, doccia e via dopo il mare. E poi, ecco, ribadisco, guardavo comunque gli abiti a Pua. Mi piace molto la fantasia Pua, la trovo veramente stilosa. Quindi mi rendo conto dei prezzi, anche se comunque io vado sempre preparata. Anche quando devo andare a fare shopping, consiglio sempre di prepararsi il carrello in anticipo e verificare la presenza delle taglie negli store. Solitamente faccio acquisti online, mi piace di più. Arriva il pacco piegato, tra virgolette non indossato, comunque già controllato, in linea di massima. È raro che mi capita il capo, chiamiamolo fallato, ecco, con qualche difetto. È molto, molto di rado, è capitato. Forse una volta, forse una volta che io abbia memoria di questo. E mi piaceva molto anche questa giacca. Mi rendo conto, dal vivo, dai tessuti, della pesantezza, della morbidezza del capo. Anche dal tessuto capisco se mi può accadere o bene o male, al di là del modello e della taglia. Controllo molto anche il tessuto. Questo perché poi quando faccio shopping online, è uno shopping più consapevole. No, però mi rendo conto, sinceramente. A volte mi capita che sul finire, cioè prima dei saldi, scusate, prima dei saldi, acquisto un capo che penso di non trovare poi ai saldi. Se lo trovo ai saldi, faccio il reso e lo acquisto, in modo di non pagarlo mai a prezzo pieno. Però qual è poi il fine? È quello di avere quel capo che proprio mi piaceva, non volevo farmelo scappare. Perché per 10 o 20 euro di sconto, di saldo, insomma, potevo anche per 10 euro soprassedere e prenderlo a prezzo pieno. Però per non farmelo scappare, qualche volta ho adottato questa tecnica perché mi è capitato che neanche erano arrivati i saldi, che già il capo era andato sold out prima dello sconto e di saldi, molto prima. Non so se è capitato anche a voi. Qualche giorno prima, un capo che magari è puntato e che aspetti di vedere scontato, te lo trovi già sold out sul sito. Ma è capitato. Qui sto facendo una panoramica, una carrellata, anche per renderci conto. Mi avete detto che è molto piacevole e rilassante anche vedere gli stand con i capi. Quindi non trovando ancora una musica che mi piaccia e che quantomeno possa essere utilizzata, ovviamente senza problemi di copyright, mi tocca fare sempre questi lunghissimi vocali, diciamo, questi lunghissimi descrizioni. Quindi utilizzare poi la mia voce come accompagno per le immagini e per il video. In parte mi piace anche a voi. Qualcuno di voi mi ha detto addirittura che è rilassante, non lo so. Non so, qui sto mostrando anche i jeans, che veramente ragazzi, io di jeans ne ho tantissimi. Punterei un jeans bianco, ma non ne ho trovato modello e tessuto, quindi questa combo modello e tessuto che poi alla fine mi sia piaciuto. Ne ho di jeans. Poi tra l'altro soprassiedo anche perché vi ricordo che d'estate neanche la sera oso tentare di indossare il jeans, io lo abbandono proprio. Qualche jeans cropped ne ho uno di stradivare, sono veramente leggero in quanto consistenza, in quanto tessuto proprio di jeans. Quello è l'unico che mi permetto di indossare, ma ci sono dei giorni che neanche quello tollero, ma dei giorni che non tollero proprio i pantaloni in generale. Non so voi che cosa indossate d'estate, che tipo di tessuti prediligete o che tipo di abiti freschi e larghi penso un po' tutti. Piacciano anche i tubini, però ecco ad agosto evito quelli troppo troppo stretti, anche per la circolazione perché si sa, l'estate si è accaldati, tutto ci stringe, ci sentiamo un po' soffocare. Sono delle volte che proprio non sopporto nulla, ma questo diciamo accade poi quando sono in vacanza, quindi solitamente sono più in libertà perché si è al mare, ci si veste proprio poco perché si è in costume, copri costume, quindi il problema si presenta poco perché comunque si è in vacanza, quindi si è liberi e che quando si va al lavoro e comunque si ha un certo tipo di abbigliamento è lì che si ricercano tessuti leggeri, che accompagnano ovviamente modelli che siano adatti all'ufficio. Poi dipende, tutto è relativo, dipende dove si lavora. Sto continuando a farvi vedere che ci sono abiti maculati, cercavo il cartellino per farvi vedere il prezzo perché ho avuto delle richieste, mostra questo, quello, questa fantasia piuttosto che... e quindi cerco di accontentare quando mi ricordo e quando nel negozio scorgo qualcosa di interessante, cerco di accontentare un po' tutte. Questo è stato un video richiesta, proprio più di una di voi. Ah ecco, c'era anche il sandalo maculato. So voi, ma io da Mango no, ma da zero ho trovato proprio il trivudio del maculato, dell'animalier, veramente tanto, tanto, tanto. Non credevo, non era una cosa che avevo contemplato, non avevo neanche immaginato che ci fosse appunto una fantasia, cioè che avessero riscoperto questa fantasia, pur leggendo le ultime tendenze. Probabile mi sia sfuggito, non so che dirvi, però da Mango non l'ho visto neanche in altri brand, Massimo Dutti o, non so, anche da H&M, che è un po' più, diciamo, prezzi un po' più accessibili, pezzi un po' più accessibili, rispetto magari ai brand un po' più costosi, come Twin Set e Company. Ragazzi, siamo arrivate quasi alla fine, perché il negozio qui a Roma Este era molto grande, lo store. Non sono andata, come mio solito, a Porte di Roma, dove trovo però più disponibilità di capi, perché, come solito, io preparo il carrello e poi cerco la disponibilità dei capi, perlomeno di quelli che mi interessano veramente, che ho voglia proprio di provare, anche perché se devo fare un video da Zara devo avere certi capi a disposizione, quelli che penso che siano un po' più carini, che rappresentino un po' più la collezione, le tendenze e via dicendo. Mi ero un po' fossilizzata su questo sandalo che poi nel camerino sono andata a provare, ma non mi faceva impazzire, perché se vedete quelle fibbie di lato, non lo so, se ne vanno in giro, si alzano le linguette e non mi piaceva affatto. Assolutamente no. L'ho trovato un po'... Sembravano due ali che spiccavano il volo, brutti brutti insieme. Da solo non ci avevo fatto caso, ma provare sempre il sandalo tutti e due, perché ci può essere quel dettaglio pesante, bello anche questo con tutti questi strass. Dicevo, se il sandalo ha un dettaglio abbastanza vistoso, la scarpa ha un dettaglio vistoso, tendo a provarli entrambi, perché magari mi rendo conto che tutte e due i piedi con quel dettaglio, quelle scarpe con quel dettaglio ripetuto, diventa stucchevole, diciamocela tutta. Comunque, ripetutamente controllo gli accessori, perché devo dire che negli ultimi anni le avevo un po' tralasciati, però da quando ho riscoperto quella borsa piccolina di di Zara Cuoio, che mi è piaciuta, ma quanto la sto sfruttando, neanche avete idea? Tantissimo. Rispetto alle mie solite borse, insomma, Coors, Coccinelle, la sto sfruttando, la sto sfruttando molto di più. Qui credo che mi stavo dirigendo nei camerini, dove volevo appunto provare queste scarpe che ho bocciato, ed erano tra l'altro in presaldo, c'era una piccola percentuale di sconto. Comunque, mi sa che ho chiuso qui il video, perché ho mostrato un capo un po' fuori dalle righe, che d'estate, tra l'altro pure nel colore nero, che d'estate, io non so, Zara, con quale testa lo abbia potuto proporre, ed è praticamente, sì, mi sa che sto alla fine, sì, questo bomber, mille fiori, mille rose, non lo so, tipo Gabbibo, bella vedersi così, ma indossato, mi sa che infagottina un po', e poi boh, non è periodo. Vabbè ragazzi, questo era tutto per questo video, ci vediamo al prossimo, si parlerà ancora di saldi, quindi rimanete sintonizzati sul mio canale. Ciao ragazze!